Il tema della Tene Sarda è sicuramente un tema presente nella nostra discussione, ma sembra che le stesse comunità che poi hanno ospitato i personaggi di cui noi parliamo non abbiamo un po' sapevolezza della ricchezza che vi sia in questo territorio da questo progettivo. Questo credo che dovrà essere il tema per creare futuro sviluppo per questo territorio e per la città. Quindi noi partiremo da una lettura dell'articolo 9 della Costituzione, il quale tutela tutti i fenomeni culturali, incentiva coloro che portano avanti lo sviluppo della cultura nel territorio. Bene, vi invito a testimoniare la nostra grande attrezzata anche con i vostri telefonini per dar vita ad altre appassionate testimonianze. Grazie a tutti. 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 ma il soverismo spotteva troppo le coscienze e imbarazzava molti. Non ci siamo in una scuola scuola ma ci siamo in una scuola scuola ma ci siamo in un'unica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.